Qui abbiamo tutti i vini della nostra regione, diciamo che sono rappresentati tutte le aree produttive. Tutti i vini della regione disponibili al mondo per essere assaggiati e conosciuti. Ad Expo, l'Enoteca regionale Emilia Romagna, che rappresenta 160 tra piccole, medie e grandi imprese, è venuta con una carta d'identità del vino del territorio. Si viene per rappresentare comunque la tua realtà produttiva. Noi lo stiamo facendo qui con una sessantina di aziende, in sei mesi facciamo girare 192 etichette. Una regione che si snoda lungo la Via Emilia e quindi offre grandissima varietà. Produzione diversificata dalla Romagna all'Emilia, quindi abbiamo una proposta molto varia, partendo da vini bianchi, vini rossi, vini frizzanti, vini spumanti, vini adatti per l'invecchiamento, quindi una proposta molto variegata. E la sfida non era solo quella di portare a conoscere i vini della regione al mondo, ma anche quella di portare il mondo a conoscere la regione. Noi a fine giugno abbiamo portato 60 operatori da tutto il mondo, che hanno incontrato le nostre aziende, valorizzando non solo il vino, ma tutto il territorio. Quindi questa era la grande scommessa, soprattutto la capacità di portare operatori nel nostro territorio. Grazie a tutti!